e bello a tutti ragazzoli benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui con luciano saluta ragazzi oggi vi sto portando clash yale perché brawstars già l'ho portato ieri e guardate subito il video oggi vi porto clash yale con luciano perché andrea non ci piace quindi oggi faremo faremo prima una partita un singolo da soli no no tutti insieme tutti insieme anche comunque mi devo modificare il mazzo voglio togliere il gigante difendiamo fra difendi bene ceri ce l'hanno fatta ci hanno fatto pure la seconda misa ci hanno tolta questa è persa ah non troffè troffè buone la troverò io prima vai piccolino che segni tu 50 50 normali noi 50.000 perché nemmeno i 50.000 follower iscritti ragazzi ce l'hanno distrutte tutte e ma se è giusto abbiamo distrutta noi prima anzi vero ci siamo dai Simone ma poi si ci siamo si si è andato Simone ci è andato vicino non mi ce l'hanno quasi vicino no ce l'ho distrutta una e una cintra indistrutta no pecca difendi pecca difendi ce l'ha distrutta quel gigante metti pecca difendi quel pecca ehi pecca ci stavo caricando vabbè almeno una ce l'abbiamo fatta Simone che riesce hai il mio potenzio in marzo ok Simone ok non voglio bloccare solo quei personaggi non sei nel potere no no non ho trovato niente Simone Simone si io mi stavo chendo in mazzo aspetta ok Simone non mi stai mai mi sono tolto il cavaliere il gigante perché non lo uso mi sono messo la pokeball oh ma tu ci attaccano così ti fai più bella ti fai metti le acere ti metti le frecce là vabbè ci attaccano anche noi con le frecce ci vuole a me nessuno mi sta ok non è Simone oh difendi tu sto difendendo no perché la torre è fatta vabbè perché questa è stata facile Ecco Vero Simone No Perfetto Non male Va bene Può capitare ragazzi Non è che Guardami Luciano Cosa? Guardami dico Ragazzi Lo stai Lo riporteremo Con rapina O sopravvivenza? No rapina no No Andre No Andre ci si secca Sopravvivenza Lo riporteremo Con Luciano E Andrea Non è dovrei fatta Ok Simone io ti sto guardando E' vero Mi guardi E mi metti i corriandoli Aspetta Simone io ho finito Poi non mi sto guardando Senti Simone ma Andre che fine hai fatto? Andre non ci piace Con i scegliati Ma so Beh Lo so Fino a ieri ho fatto il video con lui Ieri? Eh vabbè È stato bravo Simone È fatto Sto partito Hai visto i video aperto Non c'è Cosa? Sì Oggi Oggi Vi pubblicchi i video Del De Di oggi Vero? Sì Mi fai corriandoli Mi fai Cosa? Mi corriandoli Una cosa? Come si chiamano? Simone Ah già Sì 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 Cosa io ti sto mandando Cosa? Simone Non lo vedo Vi amo Rimando Ah eh Rimandamelo Quindi Dicevo Rimando Che culo Finito L'ho vinta L'ho vinta Dai Soldi Vediamo quanti soldi 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 Dove c'è Mettete il mazzo Per favore Aspetta che me la sto potenziando A posto A posto Dalla panna No Come si chiama? Valtiria Valtiria Non lo so Non lo so Vabbè Dove ore Dopo Vedete E che suona E adesso Ora Hai vista? No Ora la veda Sì Ora Ho vista Sì E' un mostro Ma questi Non ti fermano Vedi quando toglie Quando loro lanciano i scheletri Lei ce ne rompe Lo sai perché? Perché lancia una lama Se ce l'hanno vedi che te la distrugge No Dai Il mio Il cielo Allora Fra Siamo una Cosa Stragica Perché in un punto Abbiamo No Non difendono loro Non so Ma è meglio Che le faccio morire Ce l'hanno fatta Oh No Devi difendere Il gigante Il gigante Cosa metti Gli schieri Metti gli schieri Metti gli schieri No Lo difendiamo Stai caricati Caricati Quale mi sono messo? Dopo Minipecca? Sì Minipecca Mi ho messo Paura Gobbi Bravo Simone Ma non è Stendo in Dazio Che bello Ci abbiamo Tutto Don Papa Bello Sapevo che ce l'avevano Discritto Ce l'hai Il 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 drago Ce l'hai il drago Metti I tre Draghi I draghi Metti I draghi Ma cosa sta succedendo Staccino Che lo dici Pecca Ma che cavolo Sono Di troppo Ok Faccio così Poi faccio così Faccio io così Il Pecca però Dove Mettere Più Vicino Simone Io sto cercando Stiamo cercando Non di combattere Bene Il Il drago Poi Faccio una cosa così Il Il Pecca Stiamo Distruggendo La Base La La nostra Sì No Non ci distruggono Abbiamo vinto Beh Ah Perché Siamo Uno Se ci distruggono Una torre Vedi che è finita E se No Ci distruggiamo Una torre Però Non ci fanno Già morire Con gli Speratrini Sì Saremmo Fatta Meglio Molto Ma Molto Bella Pokéball Che abbiamo Vinto Non abbiamo Perso No Vabbè Almeno Uno ce l'abbiamo Fatta Però Sì Sì Oh Casta No No Che Sono Giù No Ma Ti prego Ti prego No Niente Soprò Non c'è Però Due Corte Di quell'area Uno Mi manco L'ultime Tre Ok Livello Cinque Soprò 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 Ragazzi Ragazzi Quello Che Detto Non è Vero Ma Comunque Su Brostar Soliciano Ho Trovato Eugenio Lo Lo sanno Lo sanno Ieri Non ho visto No No Questa È bella È Stamorizzata Questa La Stamor Lo Sai Cos'hanno Oh Besvai Ho fatto Ieri Besvai Ho fatto Una partita Con Il primo Che ce l'ho A Grado Venti Ma Soprò E infatti Siamo arrivati Per un secondo Meglio Sì Ho detto Andrea Ti prego Non mi farei Per te Lei Questa Coppa Te l'hanno Distrutto Mi è sorpreso Questo Vi Mi è sorpreso Il Vito Che Avete Che ha Letto Che Andrea Te l'ho Sbloccato Lo sai Che l'ho Sbloccato Che Jesse Ah Mi è Sbloccato Jesse E tu E tu Che Avete Desso Emilio Che tu Non lo Conoscevi Ma Ha De Tomata Ma Non ti Sei un genio Mamma Marea Di Brulle Che 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 Si esi Să vedem Nu s-o facem de nevos se hai sfruttato arena 1 per caso ragazzi dove ci sono una cosa ma voi sapete che si pone non sapete che si pone più forte di un gioco se voi non sapete si chiama Brossa ragazzi voi non sapete fino a ieri ho fatto un video ragazzi ragazzi dipendiamo ce l'hanno fatta ce l'hanno fatta io dico che non ce l'hanno fatta ce l'hanno fatta perché devi difendere non trovi niente ragazzi ragazzi mi sai che ora ragazzi non lo so prima è una cassetta diretta una cassetta piccola aspetta oh c'è l'hanno è una schiena carletto quella di crescita reale tipo si ma che si carletto domatore di cindiani troppo frigo troppo frigo ti giuro ti giuro che è maiettico la mia mamma è bellissima cosa lancia se lancia cindiani ma non è finito ti vuole ora io senti 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 quando è bello no no stanno giù non me lo prendo ma ma vero perché tu ce l'hai carletto si vero ragazzi va bene Luciano oh Luciano ti sprighi non hai vabbè stai uscendo non mi bruciano più una figata ragazzi è un petto giù e togli se lo perché ma sai chiamo la vita chiamo per buona per il primo no 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 non è 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 perché 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 dobbiamo fare sopravvivenza Luciano va bene oggi va bene gioco con il tuo amico ragazzi però facciamo questa partita per oggi è tutto vabbè senza Luciano perché Luciano vuole giocare con questo amico se l'hai invitato tre volte ma io ti sto invitando ma ti stai facendo la partita si tu gioco con il tuo amico ma te consiglio amico vabbè sto facendo la partita facciamo questa partita per oggi è tonta perché sono pure stai 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 Muoio, muoio Ugo Maddo Che giocata bellissima di Beryl E' morto però Beryl di merda Vabbè ragazzi Per oggi è tutto E' lasciata 350 mi piace Alla prossima